...senitori che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e può essere punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3. La società è ritenuta altresì responsabile per l'esplosione di petardi, l'accensione di fumogeni e l'esposizione di striscioni che possano offendere per qualsiasi ragione gruppi di persone, di razza o di religione. Grazie. Diamo lettura delle formazioni cominciando dal Casarano. Numero 1 Leopitti, numero 2 Fazio, numero 3 Palma, numero 4 Settardo, numero 5 Serao, numero 6 Calabro, numero 7 Palazzo, numero 8 Bonaffini, numero 9 Villa, numero 10 Cenciarelli, numero 11 Danna, in panchina con il 12 Corradini, 13 Rollo, 14 Niccolini, 15 Caracciolo, 16 Rocco, 17 Contino, 18 Palumbo, allenatore signor Bianchetti. Bacolissi, numero 1 Monteleone, numero 2 Rainone, numero 3 Zinno, numero 4 Giliberti, numero 5 Rea, numero 6 Di Domenico, numero 7 Solimene, numero 8 Dinolfo, numero 9 Ingelito, numero 10 Arenella, numero 11 Stullino, numero 11 Stullino, in panchina con il 12 Costaiola Enrico, 13 Posiello, 14 Costaiola Giuseppe, 15 Carannante, 16 Maresca, 17 Esposito, 18 Quagliariello, allenatore Enzo Carannante. Dirige l'incontro il signor Verubeis della sezione Aia dell'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Torriero, di Lanciano e saluto dell'Aquila. Buona visione a tutti. ridi in contra, ridi in contra, ridi continuo, ridi in contra, ridi in contra. Ra after more! canceled the45, Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!